dunque daniele giusto giusto sì sì mi sono divertito e niente è stato è stato bello partecipare a questo film perché è stata un'esperienza nuova e soprattutto è stato vuoi dire parolarci che non stanno bene nel backstage e niente anche se è stato molto faticoso alla fine speriamo che il risultato sia sia un buon risultato ecco anche perché sono contento poi per federico contestare non sono un ruffiano non dire così che la prossima parte devo darla già john strada che deve fare il cavallo john strada deve fare il cavallo si ha detto come fare un western come fare il cavallo devo dare un pugno in faggia qualcuno non so a chi è e niente a parte la scena del bar che mi avevano fatto bere troppo birra per il resto è finato via tutto liscio dopo lì sì mi ero un po impastata la lingua però alla fine l'abbiamo allungata con l'acqua e basta ecco ma di la verità che non è vero che l'abbiamo allungata con l'acqua e dato dentro niente poi per fortuna che avevamo liviano come aiutante perché forse uno degli ultimi lavoretti che farà la sua vita però insomma almeno un po di soddisfazione anche lui che il poveretto in pensione non sa non sa più cosa fare sono gli ultimi passatempi che gli rimangono e poi basta spero spero di essere stato bravo e niente speriamo ancora che il film sia riuscito bene e che venite tutti a vederlo di sicuro si guardano questo l'hanno visto il tuo intervento è stato provvidenziale